L'emozione adesso è davvero alle stelle, mancano soltanto 24 ore al defile della rinascita che vedrà protagoniste le pazienti dell'Associazione Oncologica San Bassiano. Già dalla mattinata di venerdì 10 settembre le speciali modelle si ritroveranno a Palazzo Sturm per i preparativi, la prova degli abiti, la realizzazione delle acconciature, il trucco. Passarella d'eccezione sarà il restaurato Ponte Vecchio che le accoglierà a partire dalle 18.30. Un evento che è prima di tutto un progetto terapeutico, un percorso di sostegno a favore delle donne colpite dal tumore. L'obiettivo della sfilata è infatti quello di esaltare la bellezza e la femminilità nonostante la malattia. Chiuderà l'evento alle 20.15 il gruppo Somozzatori Bassano che darà vita ad una spettacolare fiaccolata. Più di 30 sub scenderanno lungo il fiume Brenta partendo da via Volpato, passeranno quindi sotto il ponte dando vita ad un'originale coreografia.